Ciao a tutti, vengo da una città grande, ho frequentato amici che non facciamo parte dell'oratorio, quindi mi hanno portato via dall'oratorio, poi è venuta altra gente per portarmi nell'oratorio a giocare, a divertirmi, mi hanno sperato un po' che cos'è l'oratorio, poi mi sono messo in opera io aiutando bambini più piccoli, dico solo un messaggio ai giovani, venire in un'oratorio almeno una volta non fa male, stanno meno così l'oratorio, che è una cosa bella. Ciao.